Una tornata elettorale, quella delle elezioni provinciali, dalla quale esultano tutti. D'altra parte, il centrodestra ha guadagnato e ribadito la propria forza, soprattutto nel Fermano e nel Maceratese. Il centrosinistra mantiene la maggioranza in tre province su cinque, Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno, e le liste di centro ottengono i risultati auspicati. Partiamo dal presupposto che sempre si può ottenere qualcosa di più, però al di là di questo, credo che il risultato sia stato molto positivo per il centrodestra. Numericamente, praticamente, abbiamo vinto in tutte le province, tranne Ascoli Piceno. Il dato importante è che il PD, rispetto alle scorse elezioni provinciali, ha perso tanti consiglieri in tutte le province. E quindi, ecco, questo ha conferma del grande lavoro che appunto la nostra coalizione sta portando avanti. Secondo il PD, Acquaroli e il centrodestra erano certi di fare cappotto, invece sono stati costretti a inseguire il centrosinistra. Io credo che questa apertura che abbiamo fatto al centro e anche questo lavoro certosino che è stato fatto dalla Segreteria del Partito Democratico, insieme agli altri soggetti che hanno composto con noi le liste, ha portato a un risultato matematico evidente. Noi otteniamo 46 mila punti e la destra ha 36 mila. Quindi c'è una differenza enorme. Noi eleggiamo 5 membri in consiglio che più il presidente fanno la maggioranza e la destra, invece che pensava di portare a casa un grande risultato, si ferma con il primo eletto a 6 mila contro le nostre 9 mila. All'interno degli schieramenti di centrodestra, Forza Italia si conferma una forza determinante nelle marche, eleggendo un consigliere in ogni provincia. Quando è venuto a mancare il nostro presidente Silvio Berlusconi, tutti pensavano che Forza Italia si liquidasse come neve al sole, così non è stato e il lavoro del nostro segretario nazionale è stato ampiamente ripagato a questa elezione provinciale, dove abbiamo un consigliere in ogni provincia. Anche a Fermo abbiamo eletto un consigliere in un comune di mille abitanti e Bonifazio Adriano per noi è una grandissima soddisfazione.